Incidente stradale a Gabria lungo la strada del Vallone, due auto entrano in collisione, una delle due prende fuoco, due occupanti sono deceduti all'istante. Il vaticinio del vecchio venerando da coia di Tarcento e oggi anche i riti dello spadone a Cividale, del tallero a Gemona. A fuoco 350 rotoballe di Fieno all'Estizia, in fiamme due rimesse a Remanzacco, ladri nazionatricesimo e Campoformino, a Udinon 27enne, blocca il bus. Ingelson in gruppo, assenti solo Pussetto, Macis e Viseu, a cui è stata concessa qualche ora in più per il lungo rientro. Buona serata e buona domenica dell'Epifania, ben ritrovati da Udinus TV, il nostro approfondimento live con l'informazione di giornata che si apre purtroppo con una tragica notizia. Notizia, un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la strada del Vallone tra Savogna di Sonzo, la frazione di Gabria e De Vettacchi. Uno scontro tra due auto, tre le persone coinvolte, tutti uomini, due sono morti. Erano all'interno di un'automobile con targa italiana che ha preso fuoco. Solo una delle due però fino ad ora è stata identificata. Si tratta di Davorin Zanier, 52 anni, di Doberdò del Lago. Il ferito invece è un ragazzo di 26 anni, sloveno, che è stato trasportato con l'elissoccorso all'ospedale di Cattinara. Ma ci racconta tutto nel servizio di apertura. Monica Nardini. Due uomini, tra cui un 52enne di Doberdò del Lago, sono morti in un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzanotte a Gabria, frazione di Savogna di Sonzo. Per cause da chiarire, due auto si sono scontrate frontalmente lungo la strada regionale 55 del Vallone. Una di queste è finita nel fosso, incendiandosi subito dopo. A bordo, le due vittime, probabilmente decedute all'istante. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Gorizia, che hanno svolto i rilievi e i vigili del fuoco del comando provinciale, impegnati per ore nel recupero delle salme carbonizzate e nella messa in sicurezza dell'aria. Complessa anche l'identificazione dei corpi. Il conducente della seconda auto coinvolta nel frontale, un cittadino sloveno di 26 anni, è stato ricoverato all'ospedale triestino di Catinara per i politraumi subiti. Non risulta in pericolo di vita. Ed ora ci trasferiamo in diretta da Tarcento per ritrovare la nostra Luciana e del Fonso sul cielo della Perla del Friuli. Stanno esplodendo i fuochi artificiali, la cerimonia conclusiva dell'accensione del Pignarul Grant di Coi. Allora, Luciana, te la linea, raccontaci come è andato il vaticinio del Vecchio Venerando, un anno che si pronuncia un po' in difficoltà, vero? Sì, Davide, buona serata ai nostri telespettatori. Hai detto bene, poi scopriremo insieme qual è stata la lettura del fumo per questa Epifania 2019, ma nel frattempo siamo in compagnia del Presidente della Proloco di Torcento, Nazareno Orsini, per fare un primo bilancio di questa Epifania. Tre giorni che sono andati al di sopra delle aspettative. Sicuramente sì, dalla serata del premio del 64esimo premio Epifania nella nuova Sala Margherita alla vigilia dedicata ai Pignarulars, con il palio dei Pignarulars, tantissima partecipazione, tantissima gente, forse magari perché era di sabato, ma c'era tantissima gente anche lo scorso anno, per poi culminare con il giorno dell'Epifania, lo spettacolo pirotecnico che stiamo assistendo. Sì, proprio alle nostre spalle lo spettacolo pirotecnico che conclude l'Epifania Tarcentina, l'Epifania è avvenuta alle 19, allora sentiamo insieme le previsioni del vecchio Venerando e anche le parole del Sindaco di Torcento, Mauro Staccati. Venerando, un 2019 che inizia, che cosa ci dobbiamo aspettare anche grazie alla lettura del fumo? Io ho la lettura, il fumo non è andato veramente bene, però siamo noi che dobbiamo raddrizzare tutto ciò che non è a posto, per cui ci saranno dei sacrifici sicuramente, ma sono convinto che per la fine di questo anno avremo sicuramente la bilancia che porta al buono. Lei ha parlato e ha fatto anche un appello di essere più puri di cuore? Sì, più puri di cuore, più puliti, ossia tutto ciò che va verso il bene deve venire dal cuore, perché se non viene dal cuore non c'è possibilità di rimedio. Un anno tormentato dove ci saranno anche tante sfide da affrontare? Sì, purtroppo questo è un anno in crescendo, quindi io vedo che le cose si aggiusteranno un pochino alla volta e probabilmente per novembre, anche forse un mesetto prima, avremo qualcosa di meglio di quello che abbiamo passato. Sì, ma con una tradizione che si ripete, quest'anno tre giorni di festa, è partito il 4 di gennaio con il premio Epifania e adesso si conclude con il Pignarul, che pare ci conduca in un anno di cambiamento. Sì, è vero, una giornata campale, una giornata in cui è tutto andato per il meglio, ma in realtà è un mese campale, perché abbiamo cominciato queste manifestazioni con l'accensione dell'albero di Natale. È stato un mese che ha visto impegnati tutti, tutto Tarcento, l'amministrazione, le associazioni. Un cuore un po' tormentato, ma come sindaco quali le vie allora per Tarcento? Beh, non mi permetterai mai di andare contro il parere, contro gli auspici e contro il risponso del vecchio venerando, che di mestiere fa questo, comunque mi associo, chiaramente noi cerchiamo di guardare anche il bicchiere mezzo pieno, non solo quello mezzo a vuoto. Le difficoltà esistono, lo sappiamo, però abbiamo che la forza, la volontà, la capacità di superarle. Grazie, grazie anche alla nostra Luciana Idelfonso che ha seguito per noi l'accensione delle Pignarulle Grande di Coia, ma sono stati tantissimi da ieri i Pignarui, le Foghere, il Pangevin, con le accensioni che hanno interessato tantissimi paesi e località del Friuli Venezia Giulia. Qui potete vedere una carrellata dei vari che sono stati accesi proprio nelle molte località che continuano a mantenere le tradizioni per sapere vari auspici in vista di un 2019, che secondo quanto ci ha detto appunto il vecchio venerando sarà un anno un po' caldo e complicato. E tra gli altri ci sono state anche le accensioni a Udine per quanto riguarda i Pignarui della città, con il sindaco Fontanini che è intervenuto spiegando quella del Pignarulle da sempre una delle tradizioni alle quali come frulani siamo più legati. Ogni anno il 6 gennaio miliardi di persone tra curiosi, appassionati e studiosi giungono nella nostra regione per assistere a questi spettacoli di origine celtica che affondano le proprie radici in epoche antichissime. Ma il Pignarulle segna anche un momento di purificazione, l'inizio di un anno nuovo, di un ciclo di vita e adesso affidiamo, ha aggiunto Fontanini, lo vedete nelle foto, nelle manifestazioni tenute in città, affidiamo la speranza per un anno ricco e positivo. Andiamo avanti con la nostra carrellata delle varie tradizioni epifaniche in Friuli. Ci spostiamo a Cividale del Friuli, dove stamattina si è tenuta la consuetà Messa dello Spadone e la rievocazione storica dell'ingresso in città del Patriarca Marquando Von Randek. Circa 150 figuranni che hanno poi animato la giornata cividalese. Monica Nardini. A Cividale del Friuli, autorità, abitanti e turisti, anche stranieri, riuniti per i 653 anni della Messa dello Spadone, uno dei rieti liturgici più singolari del mondo cattolico e per la rievocazione storica dell'entrata in città del Patriarca Marquando Von Randek, avvenuta nel 1366. Iniziamo con la Messa dello Spadone, una Messa che attinge al nostro patrimonio liturgico storico, perché è una Messa che è principalmente in latino, le melodie sono aquileiensi e cividalesi e la particolarità di questa Messa è appunto l'utilizzo di questo Spadone che ha appartenuto a una copia uguale di quello donato a Marquando Von Randek, il Patriarca che nel 1366 fece ingresso nella città di Cividale del Friuli. Per quest'anno è prevista anche una novità? Sì, la novità di quest'anno è il coro delle monache di Santa Chiara e dei frati francescani che intoneranno i canti dell'epoca all'entrata del Patriarca e poi ci sarà questo splendido corteo che parte come ogni anno da Porta Ponte ed è il corteo della comunità di Cividale che incontrerà il corteo patriarcale che accompagna il Patriarca con i ministeriali maggiori a cavallo e arriva invece da Porta Borgo San Pietro. Un incontro emozionante per noi tutti e soprattutto per i componenti dei borghi della città di Cividale del Friuli che vivono di anno in anno questo momento con passione e con desiderio. Pensi che loro si preparano questi splendidi costumi a loro spese e creano questa magia in cui Cividale si cala nell'epoca medievale e diventa magica. Il suo costume per che cosa si caratterizza? Semplicemente femminile da dama sarebbe d'arcera e le arcere non erano presenti nel Medioevo perlomeno non andavano in battaglia però noi ci impegniamo anche a tirare con arco e balestre quindi si è stata data la possibilità mantenendo un aspetto femminile ovvero la gonna. Nella totalità quanti figuranti sono coinvolti? Figuranti che animeranno non solo la mattinata ma anche il pomeriggio? Dovremmo essere sui 150 perché qui ci sono vari gruppi che partecipano non solo lì al Cerie Cividale, ci sono i tamburi, ci sono i nobili, i notabili, i popolani, gli armati, i cavalieri quindi c'è una schiera abbastanza ampia di persone che hanno questa grande passione e si dedicano a questa giornata oltre che al Palio di San Donato in agosto. Onore al Patriarca! Avete visto tra le tante autorità presenti anche il Vice Governatore Riccardi che ha spiegato la Messa dello Spadone è un evento importante, la testimonianza richiamata anche oggi durante la funzione religiosa quella del Capo dello Stato sul senso della comunità e quella del Pontefice sulla buona politica sono il miglior modo per orientare nell'unione di tutte le forze sociali, morali e politiche del nostro territorio e trasfermare gli auspici in obiettivi concreti da realizzare nel 2019. Festa, tradizione anche a Gemona del Friuli con la Messa del Tallero o anche in questo caso tanti figuranti in abito storico che hanno partecipato a questa manifestazione e andiamo a riviverla anche con le parole del Sindaco Revellant e dell'Assessore regionale Zilli. Vi riconosco che c'è una grande emozione in questo evento o in questo momento proprio della consegna del Tallero è una emozione e anche una carica per il Sindaco, per tutta l'amministrazione per fare ancora meglio nell'anno che verrà, un buon auspicio e che sia un anno positivo per tutti e di grande lavoro. Erano presenti anche quest'anno i comitati per l'ospedale e anche in questo caso che auspici ci sono? Senz'altro questo qua sarà l'anno in cui assieme alla raggiunta regionale riusciremo a trovare una soluzione e mi auguro che sia una soluzione definitiva per l'ospedale di Giamona e di rilancio dello stesso quindi lavoreremo nei prossimi mesi proprio per questo e l'ospedale è in cima, è la nostra priorità adesso. Sì, l'emozione è grandissima per la grande responsabilità che rivestiamo e quindi da qui parte un nuovo anno di impegno davvero per la giunta regionale, per la maggioranza tutta affinché il Friuli Venezia Giulia possa raccogliere i frutti delle prime leggi che abbiamo adottato prima fra tutte la legge finanziaria. Quindi l'auspicio è che sia un buon anno per tutti davvero con le iniziative che abbiamo messo in campo e con quelle che metteremo. Oggi come negli ultimi quattro anni è stato così erano presenti anche i comitati per il San Michele e da loro ancora la richiesta per riavere l'ospedale come l'avevano un tema. Certo, io mi sono avvicinata a loro, ho stretto loro la mano come avrete visto. C'è una grande volontà da parte di questa amministrazione regionale di ridare dignità all'ospedale di Gemona e per questo stiamo lavorando affinché quest'anno si possano avere già i risultati che la cittadinanza non soltanto di Gemona ma di tutta quest'area del Gemonese dell'Alto Friuli si attende da troppo tempo. Citati più volte, andiamoli ad ascoltare le voci dei comitati che ancora continuano nella battaglia per riavere operativo come era un tempo, l'ospedale Gemonese. Come dice giustamente il nostro strisione, l'Alto Friuli rivuole l'ospedale di Gemona non per una questione di campanile ma soprattutto perché serve una risposta sanitaria che in questi anni è stata tolta a questo territorio e alla nostra popolazione. Dalle prime mosse di questa nuova giunta regionale, la riforma che è partita col primo gennaio in parte nella riorganizzazione delle aziende, vi soddisfo? Che cosa chiedete in più? Noi non siamo contrari all'attuale riorganizzazione sanitaria a livello regionale però aspettiamo quella territoriale per sapere quali saranno le funzioni e i servizi che verranno attribuiti al San Michele. Nel frattempo il San Michele che problemi continua a scontare? Purtroppo è stato spogliato di parecchie funzioni e servizi in questi anni e sarà un'impresa abbastanza lunga poterlo riportare alle condizioni ottimali del 2014 però noi ci crediamo e chiediamo alla politica regionale di fare altrettanto. Ed ora ritorniamo alla cronaca. Davvero tanti gli interventi da parte dei vigili del fuoco partiamo da quelli avvenuti nella notte in comune di Lestizza. Dalle ore 20 sino alle 8.30 di stamattina i pompieri sono stati impegnati per spegnere il rogo che aveva interessato circa 350 rotoballe depositate in un campo tra Sclaunicco e Galleriano in via Montenero presso l'azienda agricola i Ciliegi. Un deposito all'aperto, non vi sono stati danni ai fabbricati anche se una volta terminate le operazioni di spegnimento si è deciso di mantenere un presidio sul posto per scongiurare eventuali diffusioni del fuoco che potevano coinvolgere la sterpaglia dei campi. Sempre in comune di Lestizza, dalla mezzanotte sino alle 3, un altro incendio è interessato il tetto di un'abitazione in via Monte Sabotino al numero 3 nella frazione di Sclaunicco. Sono andati distrutti circa 30 metri quadri di copertura con struttura portante in legno. Le cause sono riconducibili ad una canna fumaria collegata ad una stufa pellet che era stata accesa in serata. E sempre ai vigili del fuoco impegnati in comune di Remanzacco, anche in questo caso un doppio intervento. Alle 4 di stamattina si sono concluse le operazioni in via Premariacco a Remanzacco per un incendio che ha coinvolto un locale adibito a deposito isolato su tutti i lati. All'interno erano depositate attrezzature e materiale vario che è andato completamente distrutto. La struttura era realizzata con pareti in blocchi di cemento, nessuna persona è rimasta coinvolta e il fabbricato vicino non ha subito danni. Altro incendio a poche ore di distanza, alle 11, una squadra dei vigili del fuoco di Udine e una dei volontari di Cividale è intervenuta in via Fratelli Stangaferro nella frazione di Orzano. Andato a fuoco un fabbricato di circa 100 metri quadri adibito a deposito. Anche in questo caso non si sono verificati i danni all'immobile principale mentre quello coinvolto dalle fiamme ha subito danni ingenti. I furti invece nella notte dell'Epifania ladri in azione in più comuni. Partiamo da Atricesimo dove i malviventi in assenza dei proprietari sono entrati in una abitazione con un'effrazione della finestra del soggiorno. Hanno provocato 10.000 euro di danni, nessun oggetto di valore asportato. Sempre a Atricesimo in via Gorizia, mediante frazione di una finestra, sono stati asportati i monili in oro per 2.000 euro. A Campo Formido in via Carpeneto, in assenza dei proprietari, asportati i monili, cellulari, macchine fotografiche, videoproiettori e altri oggetti tecnologici. C'è stato poi un tentato furto invece al Oxam di Basaldella. Vedete le immagini, un'azienda per la lavorazione dei metalli sita in via della tomba antica. Nella serata di ieri i malviventi sono riusciti a entrare creando un varco nel muro di cemento perimetrale. Hanno bloccato gli accessi dei cancelli con del filo di ferro e ha iniziato a sabotare l'impianto d'allarme e le telecamere. L'arrivo tempestivo della Guardia del Corpo Vigili Notturni ha fatto saltare il piano. Secondo una prima verifica, in serata, i banditi non sono riusciti a portare via nulla, ma restano i danni alla struttura. Ed ora veniamo a Udine città, un altro episodio di follia con un giovane, classe 1991, il quale nella serata di ieri si è posizionato senza alcun motivo al centro della carreggiata al sopraggiungere di un autobus di linea. Dopo aver obbligato il conducente ad arrestare la corsa, ha fatto scendere dal mezzo tutti i passeggeri, cercando poi di dileguarsi. Ma è stato raggiunto dai militari della norma dei carabinieri di Udine e bloccato, denunciato per interruzione di pubblico servizio. I carabinieri poi hanno portato a termine altre operazioni. Nella tarda pomeriggio di ieri a Martignacco c'è stato il sequestro di circa 10 grammi di sostanza stupefacente, recapitata a mezzo raccomandata postale ad una donna ottantenne, residente in provincia, totalmente però estranea alla vicenda. In caso analoghi di episodi simili, i carabinieri invitano subito a consegnare i plichi ai carabinieri. I carabinieri del nord di Udine poi, su richiesta prevenuta al 112, sono intervenuti in comune di Povoletto, in prossimità del Cavalcavia, riuscendo ad afferrare, bloccando un cittadino italiano che stava per gettarsi nel vuoto. Lo stesso dopo l'intervento dei sanitari è stato accompagnato all'ospedale di Udine per le cure. A Cividale invece, all'esito delle indagini avviate dai militari a seguito di un furto perpetrato all'interno della chiesa parrocchiale di Racchiuso di Attimis, sono stati denunciati a piede libero alla procura di Udine per i reati, un cittadino italiano classe 1963. Ancora, torniamo invece ora sull'investimento avvenuto ieri sera all'ospedale di Udine all'interno dei padiglioni, con un ciclista che è stato sbalzato da un'auto all'interno del complesso ospedaliero nei dintorni del padiglione 7. Si tratta di un ragazzo minorenne, ortato da un mezzo che poi non è riuscito a identificare, il cui conducente non si è fermato a sincerarsi delle condizioni del ferito. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso pediatrico, ha rimediato lesioni giudicate non gravi. La polizia locale, intervenuta sul posto, invita chiunque abbia assistito alla scena a mettersi in contatto con la centrale operativa. Ed ora gli interventi del soccorso alpino. È andato fortunatamente bene l'intervento avvenuto sul Canin con uno speleologo che da ieri non aveva fatto ritorno dopo un'esplorazione all'interno dell'abisso Rollo sul monte Canin. L'uomo è stato individuato all'albo da due squadre dei soccorritori che alla mezzanotte avevano avviato le ricerche. Una delle ipotesi è che lo stesso esploratore abbia deciso di bivaccare all'interno della grotta dopo aver sbagliato strada. Il soccorso alpino oggi invece è impegnato a Trieste nel corso della manifestazione di corsa che si è tenuta sulle alture del Carso. Il terzo anno che il INXAS presta assistenza a questo evento a prima ferirsi è stata una donna di Genova nel 77 che alla partenza è caduta fratturandosi la tibia prontamente soccorsa e è stata affidata all'ambulanza e portata a Cattinara. Secondo intervento invece è stato effettuato a tonale 10.30 durante la competizione in Val Rosandra. Qui un uomo di Roma classe 1982 è stato colpito da crampi e sfinimento. Anche in questo caso è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Rimaniamo a Trieste ma per parlare del caso che sta facendo discutere a livello nazionale ovvero quello del vice sindaco Polidori del suo atto poi diffuso anche tramite Facebook quello di aver gettato in un cassonetto le coperte di un clochard della città giuliana. Continuano le reazioni e oggi come vedete in questo cartello alcuni triestini hanno espresso questo pensiero Caro amico speriamo che questa notte tu soffra meno il freddo ti chiediamo scusa a nome della città. L'hanno scritto su questo cartello e hanno lasciato poi vestiti caldi e trapunte sul luogo dove il senza tetto romeno a cui il vice sindaco Polidori aveva gettato via le coperte vantandosene su Facebook aveva l'abitudine di cercare riparo. Questa mattina lungo la centrale via Carducci gli indumenti e le coperte portate in segno di solidarietà da alcuni cittadini erano ancora lì mentre il cartello di essere in caso di mancato ritiro da parte di l'interessato non gettare nulla provvederemo al recupero entro domani grazie il cartello dunque era poi sparito le reazioni stanno continuando un po' ad arrivare da tutta Italia. Chiudiamo in questa ampia pagina di cronaca e passiamo allo sport all'udinese che oggi sui campi del Bruseschi è tornata ad allenarsi dopo la pausa delle festività natalizie e ci racconta come è andata il nostro Maurizio Ferrari. Un'ora di allenamento sul 2 del Bruseschi l'udinese di Davide Nicola ha dato così il suo via personale al 2019 dopo il ritrovo alla Dacia Arena e il primo pranzo di gruppo dell'anno la squadra friulana si è spostata sui campi alle 14.30 tra i volti di rientro Svante Ingelson che dopo aver sostenuto già alcune sedute con la formazione primavera ha assaggiato nuovamente l'ambiente della prima squadra in pianta stabile qualche ora in più invece a disposizione per i sudamericani con Pussetto, Macisse e Viseu che potranno intraprendere i lunghi viaggi di rientro con maggiore tempo dalla loro parte discorso diverso per gli argentini Musso e De Paul già al lavoro con i compagni in particolare Rodrigo è tornato a sudare da qualche giorno alla Dacia Arena mantenendosi in forma e trascorrendo la sosta a Udine in attesa di poter finalmente appendere il lieto fiocco con il parto della compagna Camila tornando al campo la prima sgambata orchestrata dal tecnico è stato un mix tra il lavoro aerobico e una serie di situazioni offensive dove il mister ha provato una serie di movimenti e di scambi tra i suoi giocatori con la sola opposizione dei portieri che si sono alternati tra la respinta delle conclusioni verso lo specchio e il lavoro personalizzato con i preparatori Brunner e Marcon concludendo l'allenamento senza la tradizionale partitella una scelta probabilmente figlia di un gruppo ancora incompleto con diversi elementi al lavoro all'interno delle palestre e della volontà di Nicola di ricominciare gradualmente a caricare già dalla prossima settimana con tre doppie sedute a calendario si tornerà a fare decisamente sul serio e di Udinese ne parleremo questa sera dell'ora 21 in diretta con Francesco Pezzella e i suoi ospiti nell'appuntamento con Studio Stadio Comenti si parlerà anche di calcio mercato un flash sul basket vi abbiamo raccontato in diretta fino a poco fa la vittoria dell'Apu GS Audine contro Treviso andiamo a ribadire tutti i risultati di giornata la quindicesima del girone est della serie A2 nel derby di Piacenza la Sigeco supera 83-80 la Bacheri Verona vince 83-80 a 100 Caglia riperde contro Montegranaro 72-83 vince Imola su Forlì 74-63 vince Mantua su Iesi 92-66 Ravenna si impone su Ferrara 71-67 Roseto è stata sconfitta ai supplementari dalla fortitudo Bologna 89-95 e Udine come detto vince 77-63 contro Treviso nel derby del nord-est un'ultima notizia di sport la scherma si è chiusa a Udine alla pala Ovidio Bernes la due giorni della Coppa del Mondo under 20 di scherma non poteva esserci conclusione migliore perché l'assalto finale della gara di spada femminile che ha chiuso il programma ha determinato la vittoria della nazionale italiana per medagliere delle nazioni sul gradino più alto è salita la via rescelto Beatrice Cagnin che in finale ha superato la campionessa del mondo Cadetti 2017 la russa Murta Zeva in un match molto combattuto grazie alla vittoria della Cagnin l'Italia conquista il medagliere con due ori il primo è della fiorettista Serena Rossini e due bronzi mentre la Russia chiude al secondo posto con un oro e due argenti al terzo posto l'Egitto con la medaglia d'argento tenuta ieri nel fioretto maschi è davvero tutto per il nostro notiziario l'informazione ritornerà domani alle ore 7 con la rassegna stampa ma vi ricordo ancora una volta l'appuntamento dalle ore 21 con studio e stadio commenti buona serata Grazie a tutti